Cilento, Lucania. Due musicisti pronti a partire per una importante tournée. Salvatore Pace e Alessandro Gaudio, due talentuosi musicisti italiani, il primo lucano, il secondo cilentano, si preparano a intraprendere una straordinaria tournée in Canada. Dal 29 agosto al 5 settembre, i due artisti porteranno la loro musica al prestigioso Carrefour Mondial dell'Accordeon, che si terrà in Quebec. Il duo, noto per il loro stile unico di world music, presenterà brani di propria composizione, eseguiti con il loro inseparabile organetto. La loro musica, che fonde tradizioni musicali di diverse culture, promette di incantare il pubblico canadese con melodie coinvolgenti e ritmi affascinanti. Oltre a esibirsi al Carrefour Mondial dell'Accordeon, Pace e Gaudio avranno l'onore di suonare per il Consolato Italiano della Cultura, rappresentando con orgoglio la ricca tradizione musicale italiana all'estero.